I poliziotti in servizio alle sezioni volanti di Caltanissetta, Gere e Niscemi avranno in dotazione il Taser, lo storditore elettrico considerato arma non letale. Uno strumento che, come spiegato dai vertici della questura, sarà utilizzato soltanto per fronteggiare le situazioni estremamente critiche. Nel dettaglio si tratta di un dispositivo in grado di emettere impulsi elettrici proiettando a corto raggio una coppia di dardi. La persona che ne viene raggiunta perde momentaneamente le funzioni motorie e viene resa in offensiva. Sono in totale una sessantina gli agenti in servizio tra Caltanissetta, Gere e Niscemi che utilizzeranno il Taser, i quali hanno seguito un preciso programma di formazione nei mesi scorsi.